per favore ok ci sono ciao 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 tranquilla Matti ciao 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 su la mani tu che sei bravissima tu che sei bravissima ciao ciao Guarda il centro. Guarda il centro. Guarda il centro. Wow Brava Martina Brava Martina Brava Martina Perho Aloy Martina ha realizzato un punteggio di 66 e mezzo si conclude così l'aiuto regionale ci prepariamo per la pausa pranzo e ricordiamo che le gare inizieranno alle ore